Ancora Zlatanovi imbattuta, ricezione di Botto, la pala si impenna ancora, Iovovic all'indietro, Perrin è attento, riesce a evitare poi l'attacco murato ancora di Perrin che ci riprova, in diagonale stretta la difesa di Rizzo, Botto a salvare, applausi del pubblico meritatissimi, Iovovic la manda di là, free ball per Piacenza, attacco al centro di Cout. Grazie